Tre punti con rissa finale. Il Frosinone supera anche l'ostacolo Gubbio per avvicinare la promozione diretta in Serie B, rintuzzando il tentativo di recupero del Pelugia, vittorioso ma solo di misura contro la Paganese. Distanze che restano invariate, soprattutto per merito dei Ciociari, il cui successo è in terra Umbra e carico di veleni e accuse. Il finale è rovente, quasi infinito, visto che sono sette i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, buoni al Frosinone per trovare il gol del 3-2 in capo ad una partita che il Gubbio ha rimontato due volte. La prima dopo il vantaggio di Daniel Ciofani al quinto con Schetter, la seconda a seguito della doppietta del solito Ciofani al secondo minuto di recupero con il sinistro vincente di Falconieri. Finale rovente con l'Umbro Ferrari a terra, il Frosinone che non restituisce palla, Moroni e Boasferre espulsi tra gli Eugubini e Blanchard che incorna il pallone che potrebbe valere la Serie B e tenere a distanza il Pelugia. Costretto a rimontare una Paganese che spaventa i padroni di casa, William serve a palma il pallone del vantaggio, Mazzeo, su punizione prima e con una girata dal limite nel finale di tempo, sigla la doppietta che basta per restare in scia dei Ciociari. Dopo la tripletta di Miccoli, ecco quella di Barraco per il Lecce che batte il Prato e conserva il terzo posto anche dal ritorno dell'Aquila, brutto ma vincente a Benevento. Abruzzesi che rischiano di capitolare almeno quattro volte nel primo tempo ed invece puniscono i padroni di casa in pieno recupero e in contropiede con De Sousa. Quarto posto da condividere con il Catanzaro che segna poco, finisce 0-0 contro la Salernitana ma infila il settimo risultato utile consecutivo. Granata che falliscono il possibile aggancio ad un Pisa la cui sconfitta nell'anticipo del venerdì a Grosseto costa la panchina a Cozza e l'arrivo di Menichini. Sono i padroni di casa a giocare una delle gare migliori della stagione trascinati da Marotta. Bastano tre minuti per rompere gli equilibri grazie al colpo di tacco vincente di Burzigotti. Marotta inventa per Ferretti autore del 2-0, poi l'attaccante ex Bari sigla il 3-0 su calcio di rigore. Pisa che trova il gol della bandiera in pieno recupero con Cia. Grosseto che resta in scia della zona playoff chiusa dal Ponte d'Era che rifila la manita al malcapitato Ascoli. In due minuti tra il 22esimo e il 24esimo i toscani chiudono la gara con i gol di Pera e Pastore. Prima del riposo è Arrighini a mettere in ghiaccio il risultato che si dilata nella ripresa con il rigore di Grassi e il colpo di tacco di Pera. Nel mezzo l'Ascoli sbaglia il quinto rigore su sei in stagione con la conclusione debole di Cipriani.